10.000 euro la cifra donata alla città della speranza con la raccolta fondi realizzata in occasione della Cenerentola portata in scena dalla compagnia ospedale in prosa, gruppo teatrale formato da medici e infermieri che lavorano al San Bassiano. Anche quest'anno il gruppo ha puntato l'attenzione sui meno fortunati, si è focalizzato sui bimbi malati di tumore curati al centro di onco-ematologie infantili di Padova, eccellenza veneta, eccellenza europea. Io come tutta l'azienda siamo molto orgogliosi di questo nostro gruppo di collaboratori che fanno questa attività teatrale è un'ulteriore eccellenza del nostro ospedale, denota questa nobiltà d'animo che poi si traduce anche nella quotidianità del loro lavoro nei rapporti con le persone, il risultato del loro lavoro va nell'ottica della solidarietà. Divertirsi e donare è due obiettivi degli attori, dottori dell'ospedale in prosa che hanno smesso i panni indossati in Cenerentola e dare anacleto, gatto lucifero, topini e sorellastre hanno ripreso i loro camici bianchi per tornare al loro lavoro, alla loro missione, curare il prossimo. Il binomio divertimento e dono per noi è qualcosa che ci dà molta soddisfazione, poter fare qualcosa per gli altri con il nostro divertimento. E la fiaba di Cenerentola diventa la fiaba dei tanti bambini che riescono a uscire dal tunnel della malattia. Guarire un bambino da un tumore è una cosa grande, oggi questo è possibile in così alta percentuale perché ci sono aiuti, grande solidarietà, grandi iniziative come questa che ci fanno sentire vicini coloro a cui noi facciamo, per cui facciamo qualcosa. Grazie a tutti.